Ambizione sfrenata mossa dall'opportunismo politico, commenta così Gianfranco Valiante la mozione di sfiducia nei suoi confronti votata dalla maggioranza dei consiglieri nell'assise tenutasi ieri. Un atto arrivato da appena 4 mesi dalle elezioni amministrative che rappresenta la punta dell'iceberg di una crisi interna cominciata circa un anno fa. Questioni che Valiante ha voluto chiarire stamattina in una conferenza stampa convocata ad hoc. Vorrei ricordare pubblicamente che Baronissi è una città sfortunata, è solita, sfiduciare i sindaci, portare i sindaci dal notaio, compravendite, passare da sinistra a destra, da destra a sinistra con una disinvoltura assolutamente normale. Mi dicono alcuni cittadini che Baronissi è questa. Lo sforzo che vorremmo fare, credo che sia un nostro dovere di cittadini ma anche di uomini delle istituzioni e della politica, di fare in modo che la politica cambi e probabilmente in questa maniera si riuscirebbe a recuperare tante persone che sono lontane e che si guardano bene dal voler anche comprendere queste ragioni. Sappiamo bene che ogni uomo è fatto di sentimenti e di valori, c'è chi ha più sentimenti e più valori, c'è chi non ha di meno. Noi andiamo avanti sicuramente per la nostra strada, siamo stati designati al Partito Democratico con voto all'unanimità, quando lo strappo che è stato consumato in maniera proditoria perché era stato preparato nel tempo, ha visto il sottoscritto della nostra squadra dire faccio un passo indietro purché si assicuri la continuità amministrativa. A noi interessava proseguire sulla strada del progetto iniziale, che è un progetto che l'agilatore prevede che si possa realizzare in dieci anni, si è voluto consumare uno strappo soltanto per potersi sedere con una qualche lobby alle spalle nella poltrona di sindaco, probabilmente foraggiati anche da qualche forza esterna che per quanto ci riguarda a Baronissi non metterà piede, fin quando noi avremo forze e capacità di essere amministratori della città di Baronissi? I cittadini avranno modo e tempo di comprendere, sicuramente hanno già compreso, comprenderanno meglio, io voglio soltanto rivolgere questo invito ai cittadini, lo faccio sempre alla vigilia di ogni campagna elettorale, guardate quello che si è realizzato, i risultati del governo della città, guardate alle persone, guardate alla storia personale e soprattutto guardate ai progetti che vi, alla speranza che un candidato sindaco, un candidato consigliere può concretamente realizzare, diffidate di chi vi promette il lavoro, di chi vi promette la felicità, di chi vi promette con troppa facilità cose che saranno irrealizzabili, facendo leva purtroppo anche su una condizione di indigenza di tanti cittadini, ma questo è il crimine più alto che un politico possa commettere.